e tu sostanzialmente Allora, funzionerà in una maniera un pochino differente rispetto alle altre puntate a cui avete partecipato perché la dottoressa Lertaro farà una breve introduzione e poi in realtà sarà a vostra disposizione per tutte le domande che potete farle e quindi chiaramente il più via che bisogna quindi non vedrete una presentazione di quelle classiche, quelle diapositive, le idee e quant'altro ma sarà molto più interattiva e quindi adesso vi lascio l'impasto a loro Grazie E' l'impasto la dietologa? Vuole l'archetto o vuole il gelato? Allora, buonasera appunto sono a Carla Lentola sono un medico specialista in scienza dell'alimentazione e quindi sono una dietologa Allora, la prima cosa che Viviana mi ha dato proprio anche là per iniziare in questo modo la prima cosa forse che sarebbe utile così non chiarire ma magari mettere a fuoco è che cosa vuol dire la parola dieta Abbiamo detto che interagiamo quando Viviana tanto tempo fa mi ha detto verresti a fare questa cosa? Ho detto sì, assolutamente io chiaffierare sono una schiaffierona poi mio marito dice anche che non ho capacità di sintesi ha ragione infatti poi a un certo punto tu mi bacchetterai perché veramente deve esserci uno scambio però assolutamente però mi piacerebbe al di là delle vostre domande partire proprio dalla base, base, base perché lo so che io sono qua per fare quattro piacchiere con voi su quello che può essere la buona alimentazione magari andando un po' avanti negli anni magari anche con qualche patologia però se non capiamo subito o se non mettiamo a fuoco per capire che cosa vuol dire che cosa è la dieta quando noi parliamo di dieta che cosa ci viene in mente? su ragazzi non fate i timidi ma fare cosa viene in mente quando si parla? mi mette quelle piede mi mette quelle piede allora il tutto va benissimo quando io e questo vale veramente per tutti poi vi faccio un esempio dove magari non vale ma è l'unico esempio in cui non vale questo allora questa risposta non è proprio cosa vuol dire la parola dieta ma è un po' cosa vuol dire alimentarsi correttamente e va bene nella prima parte il mangiare di tutto io ho 60 anni faccio questo mestiere da 31 anni dal 1987 anno in cui mi sono specializzata in scienza alimentazione dopo che ho fatto medicina io devo dire che non c'è stato un giorno nella mia gestione lavorativa dove io non abbia alla fine dato ragione a mia nonna che dietro non era ma che mi diceva quando ero una ragazzina poi non erano una famiglia di donne a me e a mia sorella Carla mangiare di tutto però mi diceva anche poco allora tanto di tutto a parte che poi bisognerà anche capire che cos'è tanto sì lo sono che ho tirato dicendo ma continuamente pizzicare quella è un'altra cosa è ratto caffetteria quella roba tipico femminile il maschio fa un'altra roba posso divagarmi tanto no nel senso che non vorrei poi andare su troppe cose e non dare le conoscenze l'alimentazione di genere dopo la medicina di genere mi piace va bene va bene se mai vorrei dire ci potreremo anche un'altra volta allora questo è tanto non è vero che sono femminile così però per lo più è al femminile questo è un dato statistico che il maschio ha più i momenti in cui mangia e mangia un grande classico è il maschio che magari salta al pranzo ma non lo salta perché come al femminile vuole magari dimagrire e allora si mangia solo lo yogurt e le cose e le cose che facciamo soprattutto femminile il maschio salta proprio perché magari non si rende meno conto da avere fame no? lavora va avanti a lavorare in compenso poi quando si siede a tavola la grande chiesta mangia come se non ci fosse un domani la femmina tende a fare una roba diversa tende a fare quello che chiamiamo in gergo il rato caffetteria cioè il rato che opportunamente stimolato spiluzzica questo è un problema questo è un problema un po' sempre intanto perché molto spesso quando noi facciamo questo mettiamo in atto qualcosa che fino a un certo punto è di tutti noi che è quello di mettere anche le emozioni nel cibo ma guai se non le mettessimo tenete presente che mamma natura questo lo vuole perché noi mangiamo ci alimentiamo in maniera in teoria libera in teoria perché poi se lo facciamo troppo non va bene ma siamo programmati per mangiare in maniera libera il più gradevole possibile perché il cibo deve attrarci perché perché il cibo è vita senza cibo si muove però è anche vero che il cibo è una grande relazione e l'atto di alimentarci è il primo contatto che abbiamo con il mondo ed è la relazione che inizia con noi e finisce con noi nessun matrimonio dovrà così tanto come quello col cibo ed è una relazione che può essere sana o meno ma noi la riconosciamo e la condividiamo un grande classico in tutte le occasioni noi la condividiamo perché la riconosciamo come nostra e allora quello che noi proviamo nei confronti del cibo molto spesso il più delle volte ed è normale questo lo riconosciamo anche negli altri quando noi facciamo un po' quelli che spiluzzicano il più delle volte lo facciamo anche non solo perché quella cosa lì è buona e l'apprezziamo ma perché magari o non abbiamo altro da fare il classico degli studenti o di chi sta tanto in casa e allora mettiamo un po' di noia in quello un po' di vuoto in quello un po' di quello che non so cosa fare poi abbiamo anche le pubblicità adesso non ci sono più quelle pubblicità che facevano ambrogio voglia di qualcosa di buono adesso vanno su altri tere ma ha solo mangiare quei cioccolatini lì quei cioccolatini lì oppure noi mangiamo per altri sentimenti più delle volte sono sentimenti che ci spingono fortemente dal suo cibo l'ansia la rabbia eccetera eccetera quindi bisogna un po' capire questo continuare a mangiunchiare se qualcosa che io faccio perché comunque veramente sto apprezzando quell'alimento lì perché magari che ne so ho in casa una magnifica torta che ho tagliato tutta a pezzettini perché così ne mangio un pezzettino ma poi ne mangio tutta e quello mi succede perché magari con la torta lì è una sacra meravigliosa che arriva da Vienna e allora ecco che ma se è qualcosa che io faccio continuativamente magari non mi importa molto buono chiusa parentesi ma quello che chiedevo io era che cosa vuol dire la parola dieta o che cosa vi viene in mente quando sentite parlare di un alimento dietetico quando sentite parlare di un dietologo quando sentite parlare in dieta restezza restezza infinita mi cadevo mi cadevo mi cadevo poi vi leggo una cosa no che c'è una cultura dietro certo c'è una cultura dietro che vuole che la parola dieta che non significa assolutamente neanche solo mangiare allora se io chiedessi a te cosa vuol dire la parola dieta dal greco antico diaita che significa la parola dieta ce ne facciamo 5 o 6 ce ne facciamo 5 o 6 di queste biancherate tanto io lo so che tu mi vuoi allora va bene va bene allora ci daremo un appuntamento perché così almeno eh per il dopo estate ve lo dico già con pediacalone però innanzitutto voi ragazzi cosa vuol dire la parola dieta allora dieta significa stile di vita ma nessuno ha un classico sì la parola dieta la parola dieta vedetevelo vedere eh dal greco antico dieta significa stile di vita quindi capite che quando noi usiamo questa parola no? non la usiamo mai in senso proprio perché? perché vuol dire stile di vita vuol dire primo non devo fumare perché? perché eh io faccio il medico prima ancora di essere specialista in centro alimentazione sono medico ne ammazza di più la sigaretta la patata fritta eh anche se non sto dicendo che le patate fritte male facciamo bene ma sicuramente fumare fa male punto non c'è nessun motivo per cui fumare faccio bene mangiare la mia florezza e io sono qua per raccontarvi questo e adesso entro nel discorso ma significa rimuoversi quindi di fatto questa parola riunisce in sé quello che è uno buono stile di vita in realtà dal greco lì è la signora castile di vita potrebbe essere anche una schivezza e sarebbe lo stesso invece non ci attacchiamo il fare le cose per bene quindi vedete che dobbiamo subito mettere a fuoco come già proprio nell'etimologia della parola ci stia un concetto di salute no mi muovo non fumo non fumo quindi anche cerco di vivere in un ambiente meno inclinato possibile perché poi il discorso si può allargare io ci aggiungo anche mi stresso fino a un certo punto cioè devo cercare anche di avere un equilibrio in tutto quello che sono gli aspetti questi e non della mia vita e mangio in maniera corretta ok quindi chiarito questo sappiate che tutte le volte che direte mi metto a dieta dovete fare i conti anche con la Viviana Ghizzardi che vi dice come muovermi col cardiologo che vi dice l'italiano in sigarette e via discorrendo ok detto questo che idea avete su che cosa sia proprio la base la cosa che vi viene in mente sul mangiare in maniera corretta sana che mi porti buono che cosa tutti eh tutti quanti frutto e verdure vegetariano bravo è vero che le spizzica però è anche vero che mangia il tutto bravo anche io poi ci scambiamo qualche ricetta guardate io amo cucinare più la vita mia è una cosa che mi piace io mi scambio le ricette via WhatsApp o via Facebook o via mail con i pazienti e trovo che sia veramente bellissimo bellissimo ok mangiare vegetariano che cosa vuol dire frutta verdura cereali integrali e poi la carne no legumi qui con le frutta secca latte di costruzione di albera giochi di albera ok va bene quando sono rida per le sue mani loro vegetariano sono uscita dal tuo studio piangente non ho fatto ma anche tutto per lavare anche tutto ben lavato ok poi poi qualcun altro che viene in mente qualcosa quanti pasti al giorno no no aspetta aspetta prima di quanti pasti al giorno quello lo facciamo oggi ma lo approfondiremo a ottobre allora scherzo scherzo qualcun altro signora lei ha detto qualcosa allora ho detto che poi si piange eh sì ma si piange mangiando che cosa ok ok poi qualcun altro che viene in mente qualcosa qualcun altro che di capare il salame perché ve lo leggo negli occhi eh ragazzi ve lo leggo ve lo leggo negli occhi 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 ok allora allora dunque prendiamola un passo indietro un grande maestro tanti anni fa purtroppo non c'è più proprio fisicamente diceva sempre l'uomo nasce da un igoro per fortuna è diventato un igoro ma è solo il igoro ma se io mangio ma se io mangio solo vegetali vado in carenza almeno di vitamina B12 la vitamina B12 per il sistema nervoso è fondamentale questo non vuol dire che voi uscirete di qua che ne dicendo la famosa bistecca perché c'ha mille difetti la bistecca ma una delle prime cose che bisognerebbe andare a guardare su internet è andare a vedere per esempio cosa dice un organo italiano che è preposto a dare le linee guida alimentari che è l'Istituto Nazionale della Nutrizione che non dice di diventare vegetariani che dice che bisogna mangiare di tutto punto e questo è il dato ufficiale italiano e l'ufficialità al mondo è questa roba qui tra l'altro una derivazione anche esatto io sono disorganizzata sì ve lo faccio vedere così allora questo è il piatto sano quando voi digitate su internet il piatto sano è il piatto di arma il piatto di arma vuol dire università americana e non è che lo dobbiamo copiarla loro perché questo in realtà arriva in qualche modo dalla piramide alimentare la piramide alimentare è la rappresentazione grafica della dieta mediterranea la dieta mediterranea la dieta mediterranea che vi ricordo essere stata poi lo rivediamo proclamata patrimonio materiale dell'umanità 17 novembre 2010 dall'UNESCO la dieta mediterranea scusate la dieta mediterranea trova la sua rappresentazione grafica nella piramide alimentare che arriva da noi ma arriva da noi non solo perché come altri modi di mangiare al mondo funziona dal punto di vista sociale storico culturale perché anche la dieta francese anche la dieta cinese hanno questo tipo di caratteristica ma la nostra è quella che è stata pensata al mondo al mondo come l'esempio da seguire allora va da sé che se abbiamo l'istituto nazionale della nutrizione italiano che dà delle linee guida è quello che va seguito tant'è che scusate se faccio una piccola parentesi ma io sono qui anche perché Viviana è una cara amica ma tra associazioni che fanno del bene ci si dà la mano io insieme a altre donate come me ho fondato un'associazione che si chiama Robin Food tre O perché siamo tre soci fondatrici che dà dei pacchi alimentari corretti alle persone bisognose cioè povere e nello statuto abbiamo che questi pacchi contengono quello che vuole che stabilisce l'istituto nazionale della nutrizione perché l'ufficialità allora o chi sta nella stanza dei bottoni di quello che bisogna fare ha avuto un abbaglio o se no ci affidiamo quando noi pensiamo che la carne faccia male carne russa sicuramente sostieni il contrario sicuramente sicuramente abbiamo in parte ragione ma certo in parte che non è ecologicamente sostenibile mangiare troppa carne russa perché perché per tirare grande un manzo ci vuole tanta acqua e tanti cereali di conseguenza tanto di tutto di più che non va perché noi dobbiamo pensare al futuro mica solo a quello che facciamo noi e quindi non è ecologicamente sostenibile meglio animali più piccoli ma è anche vero che troppa carne rossa vuol dire troppi grassi saturi che non fanno benissimo e pesce vi ricordo che contiene dei grassi che si chiamano omega 3 che fanno bene anche nelle patologie degenerative anche nell'invecchiamento nei tumori e in tutto quello che è che sono le patologie anche cardiovascolari che sono quelle più importanti ma il problema è che quando io griglio la carne rossa dove si formano quelle strie nere tipiche dei barbecue che si fanno da noi in Italia ogni tanto negli Stati Uniti fanno sempre e allora dobbiamo capire dove stiamo a parlare perché qua siamo a Milano non siamo a Savanna in Georgia no no ci arrivo non hai torto non hai torto invece e ti spiego anche perché allora quando noi grigliamo cosa facciamo quelle strie nere sono la carne bruciata e la carne bruciata dove si formano queste strie c'è il 3-4-venzopilene che è una sostanza fortemente tossica cancerogena però va da sé che un conto è mangiarla una volta ogni tanto e un conto è mangiarsela tre volte alla settimana e poi che quantità quando noi parliamo della carne cancerogena o dei salumi cancerogeni o dei derivati da carne cancerogeni noi stiamo parlando di qualcosa che non ha nulla a che vedere con l'Italia perché i lavori sulla cancerogenità dei derivati della carne sono stati fatti con salumi che non sono i nostri allora un conto è parlare di Wurstel un conto è parlare di salsicciotti di qualunque genere un conto è parlare di un prosciutto crudo di obbligare l'italiano il problema dei salumi è il grasso posso toglierlo e il sale soprattutto quindi non verrebbe mai in mente a nessun dietologo non solo quelli che ti dietologo o comunque vedi come ditemi voi chi no? non verrebbe mai in mente a nessuno di esortare al consumo no? di grandi quantità di salumi un po' perché quasi tutti i salumi hanno un minimo di conservanti e un po' perché proviamo la conservazione che dubbiamente ce l'è e un po' pensare che contengono per cui tutto voglio fuorché che voi venite a casa pensando che l'alertora vi ha esortato a mangiare salumi a logo non è questo il concetto il concetto è che noi dobbiamo ragionare tornando alla mia nonna poco di tutto una cosa che non si dice della dieta menteranea è che la dieta menteranea si basa su porzioni parche quando noi diciamo altro tasto dolente quando noi diciamo il formaggio solo a basso contenuto di grassi è il meno possibile stiamo dicendo una mezza bugia o una mezza verità perché perché in realtà il formaggio compare e come nella piramide alimentare nella dieta menteranea in origine non compare ma compare dopo in realtà c'è stata un'evoluzione del concetto di dieta mediterranea la dieta mediterranea nasce sapete secolo scorso da un americano un fisiologo americano che si è trovato a un certo punto a vivere in Cilento non in Salento quindi Agropoli la zona di Agropoli quindi la zona di Salerno Fortuna Fortuna sì Fortuna sì veramente e lui ha fatto questo lavoro durante un sacco di anni dove ha visto che effettivamente se mangi cereali integrali mangi il pesce i legumi bevi l'acqua vai di vendura frutta fresca capi meglio ma lui era americano eh in realtà poi si è capito che se non mangio la carne con la gerenza di B12 ce l'ho sicura come loro chi non mangia carne e derivati si deve supplementare il B12 punto e deve avere qualcuno che glielo fa fare punto cioè non è come dire io mangio un po' di tutto e allora vabbè magari vado dalla ghezzata che mi fa muovere un pochino e dell'alerto la posso fare meno come dietologa se mangio di tutto e se seguo un pochino uno schema che vi racconterò adesso cioè colazione pranzo cena eccetera no e mi barca meno no perché se io tolgo dei bei gruppi alimentari devo farmi dire quanta B12 in supplementazione devo prendere e questo non vuol dire parlare male della verdura della frutta e dei legumi caspita altro che se bisogna parlarne bene e siamo in un paese dove veramente possiamo parlarne bene perché abbiamo tutto ma non dobbiamo mangiare solo i vegetali tra l'altro c'è tutta una bibliografia in questo momento di studi fatti su i deficit cognitivi e la malattia di Parkinson correlati con i deficit di vitamina B12 quindi si sta evidenziando che i deficit di vitamina B12 sono il terreno fertile per la malattia per comparire e per progredire sì sì assolutamente se posso anche a gusto di come dire dire una cosa che non è comprovata scientificamente ma voi avete invitato me io faccio da 31 anni questo mestiere mi sento di poter dire come la penso io veramente penso che il mangiare di tutto anche mangiandolo con un approccio psicologico corretto col cibo se volete poi ne parliamo è comunque qualcosa che ci tiene a vento di tutto anche muoversi e il troppo non va bene in nessuna situazione anche nel movimento quindi in realtà per non saperne leggere e scrivere se vi portate a casa il fatto che mangiare di tutto è la cosa migliore c'è qualcosa di utile che vi portate a casa per tutti quanti allora tornando al discorso del tutto vegetale vantaggi enormi sappiamo come nella malattia di Parkinson per esempio siano importanti le fibre se io ho un problema di stipsi io devo cercare di mangiare fibre bere acqua cercare di riuscire a bere l'acqua e quindi farmi aiutare da chi si occupa di questo a trovare quei sistemi per ma le fibre sono molto importanti così come anche il fatto di approvvigionarsi di verdure e frutta fresca possibilmente come si suol dire al chilometro zero ci aggiungo anche biologiche perché quanto più io rendo brevi i tempi di raccolta e quanto più io raccolgo maturo in stagione un vegetale tanto più è ricco di vitamine e sali se io raccolgo a cervo un mango in Brasile e me lo mangio in Italia quello che è il suo contenuto in vitamine e sali lo leggo su una tabella di composizione degli alimenti ma non corrisponde quindi estremamente importante ed altronde alla base della piramide alimentare ci sono prodotti locali e di stagione adesso c'è anche il sonno però lei lo sa e voi caspita se lo sapete questo io dico sempre che io sono una candidata ideale come tanti come come tanti personaggi sono una candidata ideale ad alzheimer perché io ho sempre sofferto un po' di insomnia e adesso anche perché faccio tante cose dormo 5 ore per notte il dormire tanto serve perché come e serve così tanto ed è così vera che la parola dieta torniamo sempre significa stile di vita che adesso andatevelo a vedere lo digitate su internet lo trovate la piramide alimentare lo vedete no? alla base c'è il movimento e adesso c'è anche il sonno perché si è scoperto che il sonno serve veramente e serve soprattutto alle patologie degenerative quindi è estremamente importante creare delle situazioni per esempio in cui si dorme bene creare delle situazioni in cui si dorme bene vuol dire anche mangiare bene perché se io non mi alimento in maniera corretta il più delle volte ho un sonno disturbato oltretutto sono in grandissimo aumento per tutti le patologie per esempio da reflusso gastrico e anche chi soffre delle patologie diciamo degli anziani spesso ce l'ha e anche lì va gestito molto bene il modo di mangiare lo stare su porzioni parche è importantissimo perché vuol dire riuscire a mangiare di tutto in quantità tali a da non impattare troppo sulla ciccia non mettere troppo peso e b anche riuscire ad avere un apparato gastroenterico ben performante ok allora tirando un attimo le fila di questo prima tornata alle informazioni dieta vuol dire stile di vita anche il sonno oltre a quello che abbiamo detto vuol dire mangiare di tutto in quantità corrette guardate che quando l'istituto nazionale della nutrizione dice mangiare di tutto in quantità corrette non significa che mi faccio le fiorettine così un quantitativo di carne poi dipende dal soggetto al soggetto ma è 120 grammi è un borgherino è un pezzettino di petto di polvo eh quando parliamo di pesce 150 grammi che è un antipasto al ristorante non è un branzino lungo così o un fettone di salmone altro così quando noi diciamo alimentiamoci correttamente e magari preferiamo i formaggi freschi una volta si parlava di formaggi grassi semigrassi e pager poi a un certo punto ancora oggi si si classificano così però è diventato più comodo parlare per esempio di formaggi freschi di formaggi stagionati perché è intuitivo formaggio fresco è quel formaggio che è derivato fresco del latte che ha una data di scadenza relativamente recente il formaggio stagionato è o duro parmigiano sbrinz pecorino eccetera o puzzone colgonzola caneggio però così avete la definizione e cosa dice l'istituto nazionale nutrizione come porzione 100 grammi se è fresco tant'è che le aziende in questo caso va bene ci semplificano la vita mica dobbiamo sempre parlare cosa fanno hanno fatto le porzioni così la ricottina è da 100 grammi cioè lo stracchino può essere da 100 grammi la mozzarella una volta la mozzarella in busta era 125 adesso ce ne è da 100 ok 50 grammi se è o duro o puzzone quindi il concetto non è tanto quello c'hai il colesterolo alto allora mangiavi la mozzarella e non il parmigiano o il gommozolo no mangiali infatti che se hai il colesterolo alto magari in prima battuta tarangi ma poi ce l'hai anche fatti mettere a dieta da qualcuno perché è una patologia la dislipidemia come l'obesità o il sovrappeso sono patologie quindi magari lì forse è utile avere un'indicazione perché un alto medico mette la dieta a un paziente allora tant'è che la differenza tra il dietologo e il nutrizionista è che il nutrizionista è un biologo nutrizionista e il biologo nutrizionista ce ne sono di ottimi non a mente di bravissimi ma possono dare dei consigli alimentari a chi non è malato quindi se io sono obeso non posso mettermi a dieta il dietologo sì perché è medico ti guarda gli esami ti visita ti fa ti forche eccetera e ti mette a dieta la dietista è quel tecnico che una volta che ha un'indicazione da parte del medico può stilare una dieta rispetto a quel discorso la differenza tra le tre figure professionali italiane è questa tutto il resto è fuffa ok quindi cercate di quando guardate una trasmissione televisiva ok cercate di capire chi sta davanti eh 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 perché non so come dire anche il medico benissimo mi può dare delle indicazioni no però deve essere un medico che deve avere studiato un po' di alimentazione se è specialista meglio se fa dell'altro nella vita è un po' come dire che io se devo logitare un appartamento che sia una catapecchia o che sia il mega attico il monte napoleone a Milano mica vado dall'avvocato penalista o dal divorzista o dall'avvocato civilista vado dal notaio sono laureati in giurisprudenza tutti e due eh allora secondo me sarebbe utile che a parlare di corretta alimentazione fossero soprattutto i medici specialisti in scienza di alimentazione senza non la toglie da tutti gli altri perché poi a volte si rischia di avere una visione un po' settoriale no allora io cerco di non amalarmi di quella roba lì però se poi mi ammalo di qualcos'altro o delle carenze allora dove andiamo poi a parlare chiusa parentesi allora piccolo consiglio che vi do se come secondo me è utile fare non aboliamo i formaggi oggi parlare di formaggio e di derivati del latte vaccino sembra di parlare dell'untore mazzoniano no? taglia l'untore anche no perché sempre il poco di tutto che mi porta avanti e poi tutto subisce una moda vi ricorderete no? quando oggi si dice per la morte di Dio il pane è lievito chissà che cos'è che male mi farà tutte noi ci ricordiamo quando da ragazzine avevamo magari due buffoletti e ci davano il lievito da sciogliere da bere allora allora andava magnificamente adesso non va c'è qualcosa che non quadra vi siamo nel campo delle mode allora il latte i formaggi lo yogurt prima di far bene male fanno tanto bene e allora la cosa carina è mangiarla in quantità coprette quindi io posso decidere se voglio mangiare in un pasto la mozzarella mi prenderò i miei 100 grammi ci avvinirò sempre adesso vi lo faccio vedere una quota di farinace perché questo è stato fatto sempre e una quota di verdura adesso vi faccio vedere la stessa cosa posso farlo se non ho un'indicazione diversa per me da parte di qualcuno preposto e che abbia i galloni per poterlo fare scusate difendo la mia categoria sono stufa di sentire farinace allora se io avrò un'indicazione diversa ho un altro discorso ma se no quei 100 grammi di mozzarella sono 50 di gorgonzola magari se non ho problemi di diabete tali per cui posso prendere anche una roba che abbia un indice decennico anche leggermente meno favorevole della pasta integrale o del riso basmati mi faccio il mio piatto di gnocchi al gorgonzola certo non mi mangerò mezzo chilo di gnocchi e la sberra così di gorgonzola ma poiché gli gnocchi sono meno calorici della pasta 70-80 grammi di pasta sono l'equivalente devo triplicare di 2 eti 2 eti e mezzo di gnocchi ci metto 50 grammi di gorgonzola e mi sono fatta un piatto meraviglioso tra l'altro anche poco calorico o che è inquadrabile tranquillamente in qualunque tipo di non mi piace chiamarlo regina alimentare ma a pasto quello che dobbiamo ho detto ok allora come intanto meglio poco cioè gli ho dato qualche esempio no di di secondo piatto un poiché un poiché di di Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.